Il Comune ha tentato il tutto per tutto per risolvere la questione dell'antenna di via Sicilia. Ha anche inviato alla società Inwit una formale comunicazione di non procedere con i lavori di installazione, ma al momento non è servito a nulla. No, ed è un peccato per la verità, perché uno stop prudenziale che era funzionale a abbassare il clima, riprendere un po' il dialogo, mettere intorno a un tavolo il comitato, l'azienda e l'amministrazione, visto che invece l'azienda non ha mai ricevuto il comitato, poteva essere un'occasione per tutti. È vero che i procedimenti amministrativi vivono di vita propria, però è anche vero che la politica ha gli strumenti e ora valuteremo se ve ne sono. Quello che dispiace è che domani è il venerdì santo, non ci sembrava ci fosse tutta questa urgenza. Credo che un'azienda sana come questa, perché tale è, abbia tutto il diritto di avere un buon contesto intorno. No, evidentemente questo non è interessato, ripeto, è un peccato, perché forse sarebbe stato opportuno aspettare un po' di tempo e capire se l'atterraggio su Arezzo poteva essere meno critico di come invece si prospetta essere e a questo punto anche il rapporto con l'amministrazione, dal punto di vista, diciamo così, di buona creanza, è ampiamente compromesso. Il Comitato di Cittadini non si fermerà di fronte a questa presa di posizione dell'azienda e già da questo pomeriggio, dopo il Consiglio Comunale, ha avviato un sit-in di protesta che proseguirà anche domani mattina.